Musica Aprete il fuoco! Musica Nemico abbattuto nella sessione a fa 1 Nemico neutralizzato Avanzare! Raggi X disattivati Avanzare! Nemico neutralizzato Versaglio abbattuto Muovetevi Nemico neutralizzato Avanzare! Versaglio neutralizzato Raggi X disattivati Avanzare! 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 Versaglio neutralizzato Avanzare! Avanzare! Versaglio neutralizzato Nemico neutralizzato Avanzare! Nemico neutralizzato Avanzare! Condatti multipli Versaglio neutralizzato Nemico neutralizzato Avanzare! Versaglio abbattuto Versaglio abbattuto Versaglio abbattuto Nemico neutralizzato Raggi X disattivati Uovetevi Nemico neutralizzato Attenti con le armi, stiamo cercando un civile Ab externo Ah, Cio! Voi popolo, non muoverevi, non muoverevi Non muoverevi, non muoverevi Non muoverevi, non muoverevi Non muoverevi, non muoverevi Benissimo, preparatevi all'irruzione Percorrela colpa, non muoverevi Vediamo Grazie a tutti.